Anna, ti volevo dire grazie perché sei venuta a questo appuntamento, sono emozionato. Senti, è vero che non ci conosciamo per niente, però io vorrei renderti tanto felice, perché tu mi piaci tanto. Senti, mi daresti il tuo numero? Ma certo! Sì, me lo dai! Ma certo! Eccolo qua! Ma ce l'hai pure scritto, sei bravissima, Anna! Ma questo non è il numero del telefonino? Sciocchino, è il mio IBAN! Diciamo che per cominciare, 1500 euro potrebbero andar bene. Come hai detto che ti chiami? Peppino! Ciao Peppino! Ciao Anna! Buongiorno! Vi chiede il tuo numero di chi non è il mio cuore. Come hai detto! Come hai detto! Come hai detto!